Allora, tanti auguri di Buon Natale a tutti, spero che questa cena sia andata bene, fra poco inizierà il nostro primo concerto di streaming di questa nuova era del Tushin Jazz e inizieremo subito con un bellissimo concerto di un giovanissimo musicista a cui quest'anno abbiamo assegnato il Tushin Jazz European Award, premio che ogni anno realizziamo al Festival quest'anno lo abbiamo assegnato e il concerto lo realizzeremo appunto questa sera per la sera di Natale direttamente in streaming sulla nostra pagina Facebook vi invito a seguirci tutti i giorni perché abbiamo preparato un programma vario che spazia in vari geni musicali dal soul al blues alla musica cantatoriale e tutto per tenervi compagnia da questa sera 24 dicembre fino al 31 con i nostri concerti Buon Natale e vi lascio al primo dei concerti con Vittorio Cucullo Quartet, special guest Gege Munari Grazie Grazie a tutti 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 E questo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti